Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video dove voglio affrontare un argomento che so ha molto interesse e che riguarda tutto quello che è la pianificazione delle mie uscite fotografiche per la realizzazione di contenuti video sul mio canale YouTube. Quindi affronterò un argomento che va oltre la fotografia a fine a se stessa ma riguarda anche la creazione di contenuti. Nello specifico andrò a rispondere a domande tipo dove ti documenti per individuare i percorsi escursionistici da fare, percorsi che devono avere anche un certo interesse fotogenico ovviamente. Decidi prima gli argomenti di cui parlare nei tuoi video, li fai a braccio lì in quel momento in base a quello che trovi e che attrezzatura ti porti dietro per gestire l'audio e l'immagine dei tuoi video. Ne parlo in questa puntata quindi mettiti comodo comoda che iniziamo. Prima però iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. La maggior parte di voi guarda i miei video ma non è iscritto al canale quindi se non l'hai ancora fatto vai lì sotto e clicca sul pulsantino per iscriverti. Mi darai una mano a sostenere questo progetto. E partiamo con la prima domanda. Dove ti documenti per individuare i percorsi escursionistici da fare? Allora fino a qualche anno fa per scoprire nuovi sentieri escursionistici le opzioni erano limitate o ti affidavi ad un amico esperto o andavi a utilizzare delle mappe topografiche. Quest'ultime oltre a non costare poco forniscono delle informazioni molto specifiche che devono essere interpretate come le linee isometriche per la quota e non ti danno una lunghezza effettiva del percorso in presenza magari di curve tornanti. richiedono una certa esperienza per essere interpretate correttamente. L'utilizzo invece di siti web di applicazioni che si sono diffuse nel tempo, applicazioni outdoor eccetera, mi ha semplificato notevolmente la pianificazione delle escursioni fornendomi immediate valutazioni della difficoltà dei percorsi grazie ai grafici di dislivello, dettagli sulla pendenza, difficoltà di salita e di informazioni approfondite sul tipo di terreno. Le applicazioni che uso attualmente sono queste, kumut e mappi.cz, non so se si pronuncia così in modo corretto e adesso andiamo a vederle un po' più nello specifico. Ed eccomi qui sul desktop mio computer con già aperte le due app che io utilizzo, kumut e mappi.cz che adesso andiamo a vedere un po' più nello specifico. Iniziamo con kumut. Kumut è l'applicazione, adesso nell'interfaccia web ma dopo sarà anche disponibile e te la farò vedere nell'applicazione su smartphone che utilizzo per pianificare le mie uscite escursioni fotografiche perché ha delle funzionalità molto interessanti. Ad esempio io posso qui partendo dalla pagina iniziale sfruttare la modalità esplora tipo scelgo una zona che voglio visitare, scrivo 5 torri e scelgo eccolo qui un riferimento 5 torri cortina d'ampezzo, andiamo a vedere, ok vedi mi ha mostrato la zona delle 5 torri, 5 torri al centro, vado ad ingrandire un pochino, ristringere la ricerca, questa qui è la zona 5 torri, cerca in quest'area, guarda qui il filtro escursionismo ovviamente perché è preimpostato in quella modalità e mi mostra, vedi qui sul grafico, tanti sentieri escursionistici disponibili e sono sentieri con vari gradi di difficoltà, infatti vedi sulla colonna di sinistra mi ha trovato 159 tour e sono elencati anche per difficoltà, difficile, difficile, intermedio, dopo ce ne sono anche altri di più facili, ad ogni modo ipotizziamo che io voglia andare qui sulle 5 torri, ho già fatto un video su questa zona, bene cerca in quest'area, lui mi trova i vari sentieri che possono esserci, voglio escludere quelli difficili, quindi vado su filtri, descludo quelli difficili, vedi 52 tour, ecco qui, allora qui mi ha individuato una serie di percorsi da intermedia facili che sono quelli più ora mi ha portata, e la cosa interessante è che vedi vado sopra con il mouse e compare qual è il percorso, il sentiero, posso farmi un'idea, cliccandoci sopra si apre proprio il dettaglio sul sentiero, vedo qual è la durata prevista di esecuzione, 3 ore 21, sono circa 9 chilometri e mezzo, 540 metri di dislivello positivo, e qui trovo anche un grafico con l'elevazione, l'inclinazione, le pendenze e vedo anche con dei colori tipo qui, sono rosso scuro, quasi nere, significa che la pendenza è molto intensa e quindi magari mi faccio un'idea, dico ok forse questo non è il sentiero più adatto a me, anche se in realtà io l'ho fatto dall'altro lato, potrei scegliere un altro sentiero tipo questo, andiamo a vedere, ma anche questo è piuttosto intenso come salita, infatti io avevo fatto questo, mi ricordo che era molto impiccato, lo vedi anche nel video che ho fatto, ad ogni modo questo qui è il primo metodo, e perché torna comodo? Mi torna comodo perché ho una visione d'insieme, quindi se decido di andare in questa zona a fare un'escursione, magari esco con l'obiettivo di rimanere fuori due, tre giorni col van, bene qui posso avere una panoramica di tanti sentieri nella zona, poi vedi allargo un po' la panoramica, cerca in questa zona, vedi amplia la ricerca e trovo magari altri sentieri molto interessanti, cerca nella zona molto più ampia, quindi posso capire se magari andando lì poi avrò modo di avere altre opzioni, altri sentieri disponibili nelle zone, quindi in più giorni posso fare più video, invece di andare alla cecca o farne uno solo, ma c'è un'altra modalità che posso utilizzare, una volta magari individuata la zona che mi interessa, potrei utilizzare il tour planner, perché mi offre delle funzionalità molto interessanti, quindi andiamo ad esempio su tour planner, una volta individuata la zona, qui mi propone Roma, io metto qui 5 torri, anche in questo caso cerchiamo, eccolo qui 5 torri, la zona inizia da qui, no? Attenzione, vedi che c'è la mappa, ma vedi che quando io ingrandisco, vedi che ci sono questi puntini che si possono visualizzare attivando Commute Trail View, se è disattiva, non ce li hai, l'attiva, compaiono questi puntini, certe funzioni sono solo per gli account premium, come il mio, ovvero pagamento, quindi devi vedere anche tu un pochino se hai questa funzionalità o no, ad ogni modo qui i puntini sono foto, proprio posizionate sul percorso, e quindi io andando ad ingrandire magari una data zona, qui 5 torri, vedi vado sopra questi puntini e compare la foto, tra l'altro cliccandoci posso vederla anche qui ingrandita, ci clicco sopra la vedo ancora più ingrandita, insomma è una tecnica molto utile per ipotizzare il percorso che voglio fare e capire che tipo di panorami mi trovo davanti, infatti qui vedi, sono questi i percorsi, guarda questo che bel panorama, dico ok voglio andare qui perché guarda che panorama, che spettacolo questa immagine, quindi qui avrò dei spunti fotografici, capisco quali sono le zone interessanti, oppure il percorso che andrò a fare, cosa potrei aspettarmi di trovare, oppure utilizzo un metodo che ho già utilizzato e ho spiegato quando utilizzo Google Maps, ovvero guardare un po' più in grande e vedere dove si concentrano tanti puntini, dove si concentrano tanti puntini, di solito significa che il percorso è molto molto bello, significa che la gente ha fatto tante foto, infatti qui ne trovo tantissimi, guarda ci sono dei percorsi che sono strepitosi con dei panorami stupendi e potrebbe essere proprio un'idea per andare a vedere queste zone molto interessanti, quindi pianifico in questo modo. Come funziona questa modalità di pianificazione? Beh è abbastanza semplice, una volta che hai individuato la zona che ti interessa, tipo vado qui e riscrivo 5 torri e vado a riprendere la zona 5 torri, eccola qui ero già posizionato, bene decido da dove partire, ad esempio io mi ricordo che avevo iniziato da qui, vado qui sopra, tasto destro, inizia da qui e dopo gli dico dove voglio arrivare, voglio arrivare al rifugio Scoiattoli, vado qui, imposta come destinazione, in automatico Komuta mi propone un percorso che potrebbe anche andare bene, vedi l'abbè peccato, era il percorso che ho fatto alla fine, ma se ad esempio io voglio andare giù per questa parte qui, mi basterà prendere ad esempio questo punto, lo trascino da questa zona e vedi mi ricalcola il percorso e la cosa bella è che qui avrò comunque un riepilogo, mi dirà guarda dovresti metterci circa un'ora e 45, sono 4 e 35 km, dislivello positivo a 520 metri, è un percorso intermedio che è basato sulla durata, tipologia di terreno, esposizione o meno, insomma certi tipi di difficoltà, posso avere delle informazioni anche sul terreno disponibile e se vado a salvare il tour avrò anche il profilo altimetrico, lo salvo, ok, e vedi che adesso oltre a trovarmi la mappa mi trovo anche il profilo altimetrico, tra altre cose, se hai la versione premium e decidi già quando vuoi andare mettendo una data nell'arco di 1-2 giorni puoi anche vedere le condizioni meteo che ti potresti aspettare in questo percorso, ma la cosa interessante è il fatto che ok, posso mandarlo ai miei device, posso quindi mandarlo sul Garmin oppure scaricare i file GPX che mi servirà per altre applicazioni, ma questa cosa mi permette poi di trovarmelo sulla mia applicazione per smartphone, infatti adesso io vado a farti vedere come si presenta adesso questo percorso, quindi adesso io entro nella mia applicazione, eccola qui, QMUT, ottimo, preparazione app, ok, vado sul mio profilo e vado sui pianificati e vedi che mi trovo il sentiero che mi ero creato, quindi vado qui, troverò tutte le informazioni stesse identiche che vedo sul web, ma attenzione ho qui un pulsantino che si chiama salvo per utilizzo offline, lo attivo, viene scaricata la mappa, il percorso, in questo modo io potrò navigare, gestire, vedere le informazioni, anche vedere dove mi trovo proprio come un navigatore, perché a tutti gli effetti poi posso avviare la navigazione, anche se non ho copertura smartphone, cellulare. Questa è un'applicazione che vado ad utilizzare, QMUT, che è molto bella anche perché nella versione desktop, poi posso salvarmi i miei percorsi su delle raccolte, ad esempio nel mio caso ho delle raccolte, eccole qui, delle raccolte, ci sono quelle pubbliche, ti metterò il link qui nelle note dell'episodio, quelle discussioni fotografiche, però ho anche delle raccolte private dove io mi salvo delle escursioni che voglio fare, tipo quelle invernali o quelle da fare, e interessante è su quelle da fare, se io vado lì all'interno dove ho salvato tutta una serie di escursioni, che non sono pubbliche ovviamente, sono quelle che ho intenzione di fare, vedi sono qui tutte elencate, ma attenzione, come prima schermata mi da una mappa generale dove sulla mappa mi vengono mostrate dove sono le zone, i percorsi che io mi sono salvato in questa raccolta, e quindi io potrò già avere anche un'idea, tipo voglio recarmi in questa zona del Trentino per fare un giro, ok ma ci sono percorsi, sì ho salvato un bel po' di percorsi in quella zona, o vado nella zona Lago di Garda eccetera, sì ho anche qui attorno delle zone tra Trento eccetera, c'è anche Val di Fumo, molto interessante, insomma mi salvo dei percorsi e vengono visualizzati, quindi l'impatto visivo è molto comodo, mi dà una mano a pianificare molto bene i miei percorsi, ma adesso passiamo all'altra applicazione che è Mappi.cz, eccola qui, Mappi.cz ha una particolarità che è molto bella, che puoi cambiare la modalità di visualizzazione delle mappe, andando su Change Map di solito ti propone la base, ma se tu vai sulla versione outdoor, beh vedi tutti i sentieri, Kai si può dire, non so se sia proprio delle mappe tabacco Kai, ma insomma vedi i sentieri, infatti ci sono anche i numeri, tant'è che quando io vado in una data zona, vediamo se trovo cortina da un pezzo, eccola qui, sì, ci sono anche le 5 torri, eccola qui, è la stessa zona che avevo visto prima, ma vedi tutti i sentieri, eccoli qui, ci sono tutti i sentieri 4.39, 4.25, ma dove torna buono Mappi.cz, che anche questo può essere utilizzato con le mappe offline, rispetto magari all'applicazione Komoot, l'utilità dei Mappi.cz sta in questo, intanto posso anche qui importare i file GPX, ovvero i percorsi pianificati, per farlo, io vado ad esempio su Komoot, scelgo il percorso che avevo fatto prima, vediamo pianificati, eccetera, eccolo qui, quello che avevo salvato prima, ad esempio che ti ho fatto, scarico il file GPX, che è un file universale, torno su Mappi.cz, vado ad importare il file, quindi lo prendo e lo carico, eccolo qui, me l'ha importato e guarda, vedi che mi trovo qui il percorso evidenziato in rosso e per l'appunto Mappi.cz è comodo perché mi permette di navigare durante il percorso e allo stesso tempo avere una visione di insieme degli altri sentieri che ci sono vicini, basati sulla cartografia topografica classica, quella cartacea, quindi ad esempio se io parto dal punto dove mi ero prefissato, cammino, arrivo qui in questo bivio e vedo che c'è il bivio al sentiero 439, posso chiedermi, ok, posso seguirlo, mi porterà da qualche parte tramite Mappi.cz ho un dettaglio più preciso perché vedo il numero del sentiero, eccetera, cosa che non ti dà sempre Komoot, quindi da questo punto di vista magari è più comodo per fare eventuali deviazioni, eccetera, sono due applicazioni che lavorano molto bene assieme dal mio punto di vista, quindi ecco, Komoot per organizzare tutto, vedere con le foto, eccetera, Mappi.cz magari per la fase di navigazione, per individuare magari dei punti, deviazioni che posso fare o delle informazioni magari anche più precise per quanto riguarda proprio aspetti dal punto di vista di tracking, quindi aspetti topografici, informazioni a questo punto di vista è molto più simile a quella cartacea che troviamo, che andiamo ad acquistare normalmente. Due app che lavorano molto bene assieme e che ti possono dare veramente una mano, entrambe funzionano con lo smartphone e entrambe funzionano offline, quindi senza necessità di copertura cellulare. Seconda domanda, decidi prima gli argomenti di cui parlare nei tuoi video, li fai a braccio lì in quel momento in base a quello che ti trovi. L'argomento in questione presenta due filosofie distinte. Da un lato vi sono coloro che prediligono creare contenuti in modo spontaneo, abbraccio per capirci, dall'altro quelli che optano per l'elaborazione di uno script dettagliato. Uno script è essenzialmente un documento come un file word o un appunto su un blocco note che delinea in modo molto minuzioso tutto ciò di cui si intende parlare e dire in un dato video. Lo script offre il vantaggio di una narrazione completa e fluida, generalmente accelerando anche il processo di registrazione. Tuttavia richiede un notevole investimento di tempo nella sua preparazione e talvolta può risultare in una comunicazione meno spontanea nel video, specialmente se non si è molto pratici nel lavorare con gli script. D'altro canto l'approccio spontaneo, abbraccio per capirci, consente una maggiore immediatezza. Si preme il tasto di registrazione e si esprime ciò che si conosce senza pianificare assolutamente nulla. Al massimo una semplice scaletta con i punti può servirti come guida. Tuttavia questo implica assolutamente una conoscenza dell'argomento di cui si parla, per evitare disgrezioni rilevanti, ripetizioni, omissioni di punti chiave e perdite del filo logico. Inoltre può comportare un maggior tempo impiegato nell'editing video per eliminare le parti che non sono riuscite bene o i tempi morti. Nelle mie escursioni fotografiche tendo ad adottare entrambi gli approcci. Nei video focalizzati sull'escursione stessa parlo liberamente dell'ambiente delle situazioni che affronto, facendo leva sulla mia esperienza personale ovviamente. Per ottimizzare il tempo però registro talvolta più video in contemporanea. Un esempio è il video rivolto ai principianti della fotografia in cui ho condiviso 10 consigli utili. Ti metterò qui da qualche parte il link al video. In questo video, registrato durante i tempi morti tra un'escursione e l'altra, tra l'escursione del Sorapis e quella sulle tre cime di Lavaredo, ho dovuto agire in un modo differente. Per questo video avevo preparato uno script ad esempio, o meglio una lista dei punti annotati con le informazioni di cui dovevo parlare. Questo approccio bilanciato mi consente di essere più produttivo e di mantenere una coerenza tematica. E appunto nell'esempio del video con i 10 consigli è stato registrato durante i tempi morti tra le due escursioni e se non avevo uno script, una scaletta ben chiara degli argomenti da trattare avrei perso il filo logico, non ci sarebbe stata una continuità e il video stesso non sarebbe riuscito così bene. La terza domanda, forse quella che interessa di più a tutti voi, anche se è la meno importante forse, che attrezzature ti porti dietro per gestire l'audio e l'immagine nei tuoi video? Nel corso degli anni ho sperimentato una varietà di metodi e attrezzature che nemmeno ricordo, spesso anche ispirato da influencer di tendenza come Peter McKinnon ad esempio. Proprio grazie a lui mi ha portato una volta ad intraprendere un'avventura fotografica utilizzando la Canon EOS R con un obiettivo 14-35 2.8, un obiettivo molto pesante. Tuttavia, riflettendo a quella esperienza, non posso far a meno di ricordare quanto scomodo era tutto il sistema, il peso o la scassa praticità di quel sistema. Per quanto riguarda i video, ho scoperto alla fine che le Action Cam sono decisamente più maneggevoli. Sono leggere, compatte, offrono una qualità eccellente in condizioni di luce standard. Potrei optare anche per lo smartphone, ma per il momento preferisco l'action cam per la loro robustezza e la compatibilità con numerosi supporti che mi consentono di posizionarle sostanzialmente dove voglio. Ho sperimentato l'action cam 360 a tratto della possibilità di rielaborare l'inquadratura in postproduzione. Tuttavia, non ho mai sviluppato un vero e proprio feeling con questa tecnologia. Trovo che il processo di reframing postproduzione sia troppo laborioso e la qualità complessiva non mi ha mai completamente convinto. Sono consapevole che le differenze di qualità possono essere quasi impercettibili nei video online, viste su uno smartphone, eccetera. Ma per me il feeling è molto importante. Attualmente sto testando la DJI Osmo Pocket 3 che hai visto nel mio ultimo video, che trovo intrigante soprattutto per la sua capacità di tracciare e seguire i miei movimenti. Sto ancora valutando se questa caratteristica sia effettivamente utile per me o se finirà per essere una funzionalità non essenziale. Lo capirò nel corso del tempo. In termini di soluzione audio ho sperimentato diverse opzioni, dall'utilizzo dei microfoni esterni nel lavalier fino a soluzioni wireless. Dopo varie prove ho scoperto che la strategia più efficace per me è impiegare un microfono esterno che registra in modo indipendente, per poi sincronizzare l'audio della registrazione del microfono con l'audio della registrazione della videocamera. Mi manca il grand'angolo io che sto andando di Fuji X4 con 16 mm che corrisponde grossomodo metti 4 mm che va bene anche quello, è un grand'angolo alla fine ma non tanto spinto. Mi manca il grand'angolo io che sto andando di Fuji X4 con 16 mm che corrisponde grossomodo metti 4 mm che va bene anche quello, è un grand'angolo alla fine ma non tanto spinto. Questo mi permette e mi offre la sicurezza di avere anche un backup nel caso in cui la registrazione audio della camera non sia ottimale o viceversa il microfono non funzioni correttamente o così sia la registrazione della videocamera e sia la registrazione del microfono esterno. Ho avuto ottime esperienze con il DJI Mic con il quale mi sono trovato assolutamente molto bene ma attualmente sto utilizzando il Rode Wireless Pro che si distingue per la sua capacità di registrare 32 bit. Questa caratteristica mi permette di non dover preoccuparmi eccessivamente del livello di volume durante la registrazione e del volume della mia voce evitando così il rischio di distorsione dell'audio o di non riuscire a catturare chiaramente la voce se parlo a bassa voce. Il microfono è quello che sto utilizzando anche ora nella registrazione di questo video. Molti mi chiedono se il processo di sincronizzazione dell'audio del microfono con quello della camera come anche in questo caso richiede molto tempo. In realtà grazie ai moderni software di editing video il sync si fa velocemente ed è quasi automatico con dei risultati impeccabili. E per questa puntata è tutto fammi sapere cosa ne pensi di questo primo approccio sul backstage su tutto quello che c'è dietro i miei video andando qui sotto nei commenti e lasciandomi il tuo feedback. Tra l'altro se ci sono degli aspetti che non ho chiarito per i quali vorresti sapere qualcosa in più fammelo sapere con le domande qui sotto in modo tale che magari io prendo nota e farò un altro video in futuro. Ti ringrazio ancora di avermi seguito. Se il video ti è piaciuto ricorda di metterci un like e clicca su quel pulsante per iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Ringrazio anche tutti i patrons, i sostenitori del mio canale che mi permettono di essere veramente indipendente, veramente grazie mille per il vostro sostegno. Se anche tu vuoi diventare un patron vai qui sotto nelle note dell'episodio e troverai tutte le informazioni per accedere a questa opportunità. Do anche qualche cosa di interessante, di riservato a chi fa parte dei sostenitori anche per ringraziarvi di quello che state facendo. Per ora è tutto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao da Alessio